Allora, partiamo da lottoscino temporari Ok Spaperiamo, cosa spaperiamo? O ce ne andiamo a quei tank su 9.14 Tipo da quelle parti Eh sì Oh, il front del bot è troppo lontano, vero? No, troppo lontano, no Diventa bello rischioso Possiamo, eh Possiamo provare il front del bot col paperazzo Però andare col cannone vuol dire morire poi Se stai lì a girarci sopra Eh no, dai facciamo il front Allora, accontentiamoci di qualche camionetta Per carità, possiamo anche andare col papero con la bomba Però una volta che ne sganci una Forse non è più, non è proprio appropriato Allora Cannonazzo quindi Le metto misti Ci metti alle due bombette Ma sì Era il 103 giusto? Esatto, sì Quindi il 34 come loadout Benzina 40% Basta, avanza E skin Ok, entro Ok, ecco Ok, ecco qualcosa non va il tasto peso della miscela con perdonami un attimo che controllo la miscela è inizia la miscela è inizia la miscela è inizia il centro ok, penso di averlo messo invece non l'ho messo ah, devo rifare la procedura di accensione perchè non mi era partito molto da sinistra è un tanto io in cui non può che bel fumone nero mi porto in pista ok sta per partire anche il secondo motore non mi porto in pista non mi porto in pista non mi porto in pista allora passo manuale busto attivato e siamo pronti passo manuale e busta vado tira a destra dopo il decollo ok un volo passo automatico tolgo busto giro a destra dopo il decollo fantastico guaduto miscela oh ché l'ho lo terrei in combat tant'ho vicino va bene facendo giù dovrebbe esserci una strada vedo se buttare un occhio se il carrello è su si si è dentro Ata tengo 1 e 1 vedo cavolo non ho messo la strada ok la strada Sì, 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 sì. e ripiego a destra un po' di prima salire che ci servirà qua a destra ho delle cose si, queste sono le nostre qua c'è un ponte, quindi le prossime che incontriamo sono niente salvo un po' e abbiamo a sinistra ore 11 non le vedo a destra da tutta manetta anch'io vedo solo quelli a sinistra poi in lontananza c'è il fumo rosso a destra quindi queste a sinistra sono nemiche affermative ne abbiamo anche a destra la in fondo ma ti direi spara la flacca si, allora visto che spara me te la lascio a te vado ok, ora spara me arrivo ma sta ricaricando purta quanta c'è ottimo ottimo ok in questo un po' in questo e poi in questo e poi in questo e poi in questo Alla ulti passo sotto A fare la velo Si sta sparando A fare la trezza Forse la mia sinistra ce n'è ancora una Come minimo Vado a farla fuori adesso Tu sgancia pure Ok No, c'è un problema Per di averci un contatto che sta arrivando No, cazzo, dove? Più a ovest Anzi, due altri due alti Sono praticamente sopra di noi Guarda Non so se sono nemici Sembra che si inseguono Allora, vedo te E se libero Non vedo loro Io mi libero delle bombe Chi sei tu? Ti sparano a te? Si Scraccianti rossi Vedo 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 Hurricane Merda Prova a incrociare Ti ha preso? Si Ma sono ok Preso Ottimo, bello, bello, bravo Ok, ne arriva un altro Altri due Ti sparano E uno dal basso Ti giù stai tirando dietro Provo a darti una mano E tu che fumi? Può essere Mi entra Stringo Cazzo, mi hanno preso No, sono andato Mezziti in salvo ste No, no Ho preso un altro Hurricane Ma non vedo il terzo Ah, merda C'è giù Ah, mi ha ucciso il pilota Dai, però che soddisfazione Vabbè Erano tre contro due Almeno ne è rimasto solo uno Oh, due ne abbiamo tirati giù, eh